Lauser di Sermide ha ospitato l'associazione Amici della Pace per la presentazione ai soci e alla cittadinanza del progetto del nuovo centro culturale di via 24 Aprile che si sta realizzando con la ristrutturazione di un fabbricato nella zona conosciuta come ex Sermide Porto. La capiente sala dell'Auser non è riuscita a contenere tutti i convenuti. Presenti i sindaci di Poggio Rusco, Rinaldoni, di Feloni, Cabazzi, di Sermide, Calzolari, la candidata alle comunali di Castelmassa Gulmanelli, una amministratrice del comune di Calto e rappresentanti di associazioni di immigrati marocchine e di altre nazionalità operanti nei comuni del territorio. Abdeslam Karim, per gli Amici della Pace, ha ricordato che la nascita dell'associazione risale ad appena 4 anni ed ha illustrato quali sono gli scopi che essa si propone nella più assoluta trasparenza, conoscenza della cultura e tradizioni, fare accordi con le istituzioni pubbliche per favorire l'inserimento scolastico e lavorativo, per la celebrazione delle pratiche del culto, dei matrimoni, dei funerali, promuovere la solidarietà e il volontariato nel rispetto della cultura di ciascuno e di porre in atto tutte le iniziative culturali, recreative e sportive che favoriscano la conoscenza, l'amicizia e la comprensione reciproca. L'architetto Anna Maria Martini ha illustrato i lavori di ristrutturazione cui è stato sottoposto lo stabile che era fabbricato artigianale, nonché i lavori aggiuntivi resisi necessari per l'eliminazione dei materiali contenenti amianto ed altri lavori conseguenti le scosse sismiche che hanno colpito la nostra zona. Iniziati nell'agosto 2011 sono proseguiti celermente grazie alla disponibilità di artigiani, ditte e tanti volontari. Sarà la sede della associazione Amici della Pace. Ci sarà una sala polivalente per le attività culturali ricreative, un ufficio ricevimento con ristoro, servizi igienici per uomini e donne. Al piano superiore sono state realizzate tre aule principalmente per lo studio delle lingue. I lavori non sono ancora terminati ma sono ad uno stadio avanzato per l'impegno di tutti. Sono seguiti gli interventi degli amministratori. Tutti hanno allodato l'associazione per la trasparenza con cui si è presentata ed ha agito con tutti gli interlocutori istituzionali. Il progetto presentato contribuirà sicuramente ad una vera integrazione. Lavorare insieme sarà una ricchezza per entrambe le comunità. Il centro culturale che sarà per tutti sarà veicolo per crescere attraverso la diversità. Già adesso ci sono partecipazioni comuni nel volontariato. Dovranno essere estese. Non bisogna nascondere le difficoltà che ci sono ma impegnarsi per superarle e realizzare una vera integrazione che non può che arricchire i nostri popoli. Molti gli interventi da parte del pubblico, soci dell'associazione e cittadini italiani che si sono associati ai ringraziamenti con l'impegnativo auspicio di promuovere ulteriore impegno delle famiglie per vivacizzare i rapporti, specialmente quelli educativi, per i ragazzi in età scolare ma anche per aiutare quelli più grandi che hanno bisogno di imparare la lingua, elemento fondamentale per vivere nella comunità. Il centro culturale sarà propositivo e aperto a tutti per affrontare insieme le problematiche. La serata era iniziata con un buffet di couscous e altre specialità dolciarie e l'immancabile fragrante tè marocchino. Il tutto preparato dalle signore e molto gradito dagli intervenuti. Attraverso la cucina avviene il primo significativo passo verso la conoscenza e l'integrazione. Grazie. Grazie.